E' una questione di tatto, con gli animali è più facile. I bambini li sentono amici, dialogano con loro ed escono fuori dall'isolamento in cui li costringe la malattia. Quelli del servizio veterinario dell'asile di Foggia ci credono da sempre. La liberazione di due tartarughe della specie caretta caretta è una tappa di un percorso abbiato con i piccoli affetti d'autismo. Nel nuovo porto turistico di Manfredonia è stata una festa. E' un canale di comunicazione che va a sviluppare tutta quella serie di informazioni dell'emisfero praticamente non dominante e quindi della intuizione, della creatività, dell'affetto che va poi a coinvolgere a livello di personalità il bambino. Pet therapy la chiamano gli addetti ai lavori, terapia dolce basata sull'interazione tra uomo e animale. Nella provincia di Foggia, dicono, si è sfiorato il miracolo. Abbiamo visto dei bambini completamente trasformati da come si erano presentati all'inizio con solo quattro mesi di pet therapy. Tra l'altro noi abbiamo un'equip fornita di psicologi, fisioterapisti, veterinari, conduttori di animali. Fondamentale l'apporto delle istituzioni. La Guardia Costiera ha messo a disposizione una motovedetta. Per un giorno i bambini sono diventati provetti marinai. La Guardia Costiera è vicino ai ragazzi, nelle scolaresche e soprattutto ai portatori di handicap per promuovere una cultura della legalità e per una cultura che sia compatibile con l'amore per il mare.